Se bevo oppure sputo l'acqua il video finisce, ok? Ragazzi vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop sul supporto a un creatore Inserite il codice creatore porto così come lo vedete scritto a schermo, accettate Da ora un acquisto che farete mi darà un piccolo supporto, grazie a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi ci stiamo dirigendo verso gli agency, in duo con un alleato per tentare la sfida di oggi Vediamo come va, speriamo che non si scarichi il controller Grazie 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 a tutti 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 What? What's going on? What? 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 Yo? GG o 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 cazzo devo fare che è ingoiato c'è voglio dire o 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